Partono lunedì 7 novembre gli interventi di Anas per i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Badino lungo la strada statale 148 Pontina a Terracina. L'avvio degli interventi, come spiega Anas, è stato condiviso nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto in prefettura a Latina. Lavori questi che rientrano nell'ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148 Pontina, presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, che ha l'obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell'arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita. I lavori per un investimento pari a 4,5 milioni di euro prevedono la completa demolizione dell'attuale impalcato in calcestruzzo armato e il suo rifacimento con una struttura mista acciaio-calcestruzzo con la ricostruzione delle spalle e interventi volti a rinforzo delle pile. Per tutta la durata dei lavori, la cui fine è prevista per la fine di maggio 2023, sarà interdetto il transito sul ponte e il traffico potrà utilizzare la 1.053.000 per poi ricongiungersi con la statale Appia all'altezza di Terracina. Per il traffico locale si stanno studiando altri percorsi alternativi e tra questi la strada provinciale Badinovecchia.